Buongiorno mondo ingegnoso, è il collegamento dell'altro video, però per chi non ha visto l'altro video, insomma, io devo dare il buongiorno buon ingegnoso Buongiorno buon ingegnoso Il buongiorno mondo ingegnoso Comunque, allora, sì, c'è sempre Pecora 1, madonna, c'è uno sguardo che proprio, cioè, rompe la fotocamera Allora, ciao, ciao Peppi, è Pecora 1, bene, ok, dunque Questo è il video acquisti, degli acquisti e dei regalini che ho ricevuto Allora, gli acquisti li ho fatti, i regali li ho avuti, quindi, nella stessa frase non vanno bene, un secondo che ci penso Del mio bottino fatto al Cartoon Mix, ti piace così? Ti piace, ok, perfetto Del mio bottino fatto a Cartoon Mix, tra regalini, appunto, cose che ho acquistato, ho portato a casa un ben balloppo E come vi dicevo nel video del vlog, alla fine del vlog, non c'è tutto quello che avrei voluto acquistare Avere tutte quelle artiste bravissime lì, in un solo posto, veramente ti... ti manda fuori di testa Comunque, vabbè, sono davvero contentissima di tutti gli acquisti che ho fatto Però vi piacciono, fatemi sapere cosa ne pensate, quali vi sono piaciuti di più E tanto di alcuni so già quale piacerà di più Ok, magari questo ve lo dico alla fine del video, poi me lo fate sapere Tanto non lo so che ripeto le cose alla fine del video, inutile che le dico adesso Vi lascio al video! Ciao! Ciao, è pazzo, è pazzo! Allora, ragazze, andiamo... non ti spostare Parlando di cose serie, dunque... Ciao, ciao, tutti! Allora, lui me l'ha regalato Ploppy Ciao, Ploppy! Comunque sarà la nostra mascotta, perché è stata la mia mascotta anche nella live su Facebook Allora, andiamo per ordine di... a cavolo Dunque, allora c'è... Questa di Daniela Pupa e... cioè... cioè... Allora, in realtà, scegliere a questi stand è sempre molto molto difficile E quindi questa volta sono andata a... Ok, mi piace questa, quindi le altre non le guardo nemmeno, altrimenti sarei restata lì ore solo per scegliere la bambolina E io adoro i colori, adoro i capelli rossi e quindi è bellissimo, ha uno sguardo super super dolcissimo Vabbè, ma Daniela, insomma, non è che ci siano tanti dubbi Cioè, ditemi se non è la perfezione È stupenda E poi ha questo stile vintage che adoro e soprattutto posso... cioè, è portabilissimo Poi, sempre di Daniela Pupa Non ha il bigliettino in Daniela Pupa, perché guardate, qui ho tutti i bigliettini Ma vabbè... Sì, ce l'ho il bigliettino in Daniela Pupa Era quello piccolino Un attimo che lo trovo Eccolo! Eccolo qui! La Puppette E di Daniela Pupa, poi ho anche questo, che in realtà è il premio per un evento del Pianeta Maggiocco Perché ricevetti un premio speciale e quindi era a tema Disney e dovevo scegliere una... una dolla a tema Disney Che cosa potevo scegliere io? E ho scelto Belle, tra l'altro lei ha uno sguardo proprio dolcissimo, sembra dire... Ah, ce l'hai con me! Bellissima! La adoro e penso che... Daniela ha assistito per darmi la catena In realtà, come vi ho detto, mi piace lo stile vintage Quindi penso che le metterò una catenina a bronzo E comunque è... È fantastica! E queste sono quelle di Daniela Poi... Tra queste qui c'è una cosina che non ho presa al Cartoon Mix Non so perché si trovi qui, ma vabbè, la faccio vedere Perché non ve l'ho mai fatta vedere È una creazione di Silvia De Ponti È bellissima, me l'ha data l'anno scorso a Miniature Italia E ovviamente di tutte le cose che vi faccio vedere vi lascio il link qui nell'info box È tanto carina Bene Comunque tu non c'entravi niente Eh, ma io volevo farmi vedere! D'accordo, ok Poi... Questo è un regalino di Tata Serena È stata davvero tanto tanto dolce ad avere un pensierino per tutte noi Poi... Che ho preso da Maria Tortorici Ovvero l'Appetite Deco Di cui ovviamente il bigliettino non ho Eh, vabbè, ok Allora Ho preso questi orecchini Che mi sono piaciuti davvero tantissimissimo Buonissimo Lasciali! Ok Eccoli qua Sono bellissimi Non vedo l'ora di indossarli Io ne esco moltissimo Insomma Non porto tantissimo queste cose Però Quando mi gira Mi... Mi preparo anche io da femminuccia Quando mi gira Altrimenti Feppa con il jeans Stiamo a posto Poi ho preso Queste bellissime basi di resina Tra l'altro la prima volta che le tiro fuori dalla busta Questa qui L'ho promessa a Bedons Alias Serena Alias Mondo in un dito Perché insomma Lei piaceva Io ho detto Vabbè, sì A me non piace Ok Perché avevo preso questo lottino Per queste cornici qui Che sono stupende Questa qui già l'avevo Questa qui non era fatta così bene Quella che avevo E questa qui non l'avevo Quindi i colori non è che mi interessano più di tanto Perché comunque si deve fare gli stampi Le devo modificare Quindi Ok Ormai si fa tutto con gli suelegant E non ci interessa il colore di base Poi c'è quest'altro lottino Qui c'è un cameo che volevo tantissimo Ecco questo Cioè questo è meraviglioso Però voglio aggiungerci qualcosa Prima di farci lo stampo Per personalizzarlo un po' È veramente bellissimo E fatto benissimo Vi ricordo che Maria accetta anche commissioni Riguardo camei Stampi Eccetera eccetera E vi lascerò il link Qui sotto Andate qui sotto Nell'info box Bene E poi c'è questa Che già avevo Però appunto non vedevo così bene i dettagli Questa qui Io onestamente non l'avevo vista proprio Già l'avevo Ma non fa niente E poi questo Che mi interessava appunto come base Per impreziosirlo E renderlo più mio E lo trovo molto molto carino Allora Qui Oddio qui C'è il nio Di Angela Grasso Alias Creazione infinita di Daphne Ecco che poi vorrei dire Angela no Di alcune Non ho proprio il biglietto Di Angela Non so perché Ma ho tre biglietti Da visita Saperebbe proprio onnipresente Questa ragazza Va bene Comunque Questo è il suo coniglietto Che ho acquistato Ed è bellissimo Mi è piaciuto tantissimo A parte questa luna Guardate Fatta in resina Tutta super super sblucicosa Tra l'altro sembrano fulmini Non lo so Comunque sembra Se si è inglobato qualcosa di magico E poi il coniglio È una cosa spettacolare Mi piace tantissimo Guardate Lo sapete che sono pazza Dai non devo più giustificarmi con voi Andiamo in ordine alla cavolo Questo è stupendo Roberta è stata così gentile Da regalarmi questo qui È stupendo Lei ha detto che alcune persone Hanno detto che sono macabre Invece io li trovo di una dolcezza infinita E sono molto molto particolari Insomma sono È arte È punto Cioè È fantastico Veramente fantastico Non lo trovo per niente macabre Tra l'altro ho scelto anche di uno dei miei colori preferiti Guardate È bellissimo Ciao Ciao a tutti È fantastico No lo adoro troppo Poi Cosa abbiamo Allora questo è sempre di Angela Grasso Guardate Cioè no Non sono fisata con i conigli È troppo bello Troppo Io l'avevo visto poi Che stava appoggiato a questo Allora ho detto Angela è una spilla E lei Sì Poi mi dà Questo Il sacchetto E questo qui con il castello Che era tutto insieme Ma mia amica me l'aveva fatto presente E comunque vabbè Sono stata contentissima Anche Wey Niglio non scappare Anche perché qui ci metterò Insomma un bel po' di cosine creative Brillantini Eccetera eccetera Insomma fanno sempre comodo Questi sacchetti Veramente Quindi mi ha fatto tanto piacere Poi Ah sempre da Maria Poi ho ricevuto varie cose Non ve le mostro tutte Perché insomma Volevo Conchiglie Oh mio Dio Mi ha letto nella mente Vi giuro Non avete idea Di quanto io S'è stata contenta Aprendo quel pacco Poi ecco Vari esperimenti Vari cammei Guardate questo Con le pietre Sono Maria Po Sono Maria Po E poi abbiamo Questi li volevo Da una Che cosa ci fa Questo qui È il nostro turno Scusami Hai ragione Ah Insomma Dunque Questi li volevo Da una vita Sono i degotti E aspettate Perché ce l'ho Ce l'ho Sono sul pezzo Come dice Serena Sono sul pezzo Le creazioni di Andra Che tra l'altro È una ragazza Veramente super super Dolcissima E appunto Lei ha ideato Questi personaggi Madonna Guardate come guardano Ma sono troppo belli Appunto poi Ognuno di loro Cosa che ho apprezzato Tantissimissimo Allora per esempio Questo è Degotto Perché voglio leggere Attraverso il cellulare Tonia Leggi così Degotti Florescenti Che è l'evolto Florescente Scusa Il mio era Oh cavolo Il mio è florescente Dai Oddio Ho scoperto in diretta Sì è florescente Io pensavo fosse bianco Allora Di questo si dice Sono molto rari e preziosi Il loro cappello È fatto di polvere di stelle Amano osservare per ora il cielo Se volete renderle felici Metteteli spesso Sul davanzale della finestra Utili per realizzare i sogni Godere di buona salute Ah sì Perché praticamente Ogni Degotto Ha un suo potere magico Quindi io ho scelto Salute E poi questo qui È Ah Quello che dà la calma Salute e calma Che per me sono le cose Più importanti nella vita E insomma ecco Vedete Degotti lilla Sono i degotti della calma Non si arrabbiano mai E donano pace e serenità Tutti coloro che ne hanno bisogno Seguono la filosofia zen E passano intere giornate A meditare Sono inoltre ottimi ascoltatori Se avete dei problemi Prima di addormentarvi E questo lo farò stasera Raccontateli al Degotto Lilla E durante la notte Scaccerà le vostre preoccupazioni Utili per persone nervose E agitate Non sono nervosa Ma agitata sì Per ritrovare la calma E la serenità Per tutti coloro che stanno vivendo Un periodo particolarmente stressante Amore Oh mio Dio Sei bellissimo E poi ci sono tutte le avvertenze Su come trattarli Su come trattarli Su come dati da mangiare È veramente una cosa Fighissima Veramente stupenda Ecco L'impegno di un artista Si vede anche da questo Non da gente come me Che non ha nemmeno i bietti da visita Non lo diciamo Sì La nostra mamma è tanto brava Evviva Bene Ora mettici sul comodino E noi ti porteremo Calma E Aspetta Ti porteremo calma Ah sì Sei la salute Che cavolo Ti porteremo calma E salute Yeee Andiamo Andate 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 Bene Continuando Abbiamo anche di questa Non ho il bigliettino Da visita Oh mio Dio Tra l'altro la scatola è fantastica Brava Ilaria C'è dell'altro? No Ok E appunto da Ilaria Ho preso Questo Che Ne sono rimasta Folgorata Folgoratissima Cioè è come avere un piccolo mondo Qui dentro E E Eiden Purtroppo Mi son pentita Perché potevo sceglierne un altro In realtà Cioè questo mi ha colpito Magari dopo aver acquistato questo Potevo scegliere un'altra dollina E non avere due orologi Però vabbè Ve l'ho detto Sono andata molto a Ok questo mi ha colpito Quindi lo prendo e basta Perché con l'oro Così si deve fare Comunque questo l'ha realizzato No questo non ci interessa L'ha realizzato Ilaria Bucchi Il regno di Lot E anche il suo stand Se avete visto il vlog Il vlog Era super super bello Oddio siamo a 11 minuti Oh mio Dio Va bene vado Vado più in fretta Perché ho tantissime cose Da farvi vedere Tra l'altro Ilaria mi ha regalato Queste stillette Sono bellissime Guardate Vabbè non ti voglio dire Qual è la mia preferita No? Veramente inutile E poi passiamo a Nera Neve Che mi ha regalato Questa calamita Bellissima Ecco il suo obietto da visita Stupendo Cioè mamma mia Obietto da visita Di tutto rispetto La cartolina Stupenda E poi Ho una sua stampa Guardate quanto è bella Per farvela vedere tutta È veramente bellissima E non vedo l'ora di appenderla Appunto non l'avevo ancora fatto Proprio perché volevo girare Prima il video Comunque stupenda E la ringrazio di cuore È meravigliosa E poi Sempre La figlia del brigante Cioè guardate qua Cosa mi ha dato È bellissima È una sua paper doll Praticamente la devo ritagliare E poi con dei cosi Di cui io ovviamente Non ricordo il nome Sì sì Quei gancetti lì Inutile che ve lo spieghi Basta Comunque appena costruita Poi ve la faccio vedere In un altro video Magari È bellissima Ci posso mettere anche il vestitino Poi vabbè Chiederò a lei Dei lucidazioni Su come ad esempio Mettere il vestito Perché questo non l'ho capito Queste qua sì Anche queste magari Però il vestito non l'ho capito Visto che Sembra sapete Quelle cose di Sailor Moon Che si compravano Quando eravamo piccole Che avevano i taglietti E tu vestivi Sailor Moon Di carta Però questo non è taglietti Quindi non l'ho capito Comunque è bellissimo È un'artista Veramente grandiosa Poi Parlando appunto Di artiste grandiose Io e Bedons Alia Serena Alia Questo mondo Abbiamo fatto una scoperta Super super interessante Che è questa artista Di cui Ho il bigliettino Da visita Dai Tonia Caccialo Eccolo E questa qui Marga Biazzi Ragazzi È bravissima Cioè Siamo passati Per La zona Dei artisti emergenti E il suo stand Colpiva l'occhio Cioè A metri e metri Di distanza Veramente stupenda Io ho acquistato Quest'albo illustrato E ve ne faccio vedere Qualche pezzo Guardate Cioè Veramente È uno stile Spettacolare E Lavora tutto Sul digitale E poi Mi piace che Spazia Insomma Ci sono Ci sono Vari Vari temi Che affronta Dalla mitologia Al folclore Ma anche cose Molto più moderne Più sullo stile Giapponese Mi piace tanto Questa cosa Veramente Veramente Bella Perché Non ti annoia Vedere Vedere il book Appunto È stupenda Mi piace tantissimo Come lavora Ho acquistato Questo Cioè Guardate quanto è bella Ho acquistato Questo E appunto Ah Questa ve la devo far vedere Perché è bellissima C'era anche il segnalibro Di questa Però poi Io ho scelto Questo segnalibro Con il campanellino Che è bellissimo E con La figura Che appunto Mi ha colpito di più Appena ho visto il suo stand Ah Tra l'altro Di Questo libro L'artista Mi ha voluto fare Una dedica Con un disegnino E mi aveva fatto la domanda Qual è il tuo animale preferito E Io mi sentivo Tanto tanto L'imbarazzo A dire che era la pecora Però poi Vabbè Alla fine gliel'ho detta E Gliel'ho detto E guardate Che bello Le ho fatto la pecora Le ho fatto la pecora più bella Del mondo È fantastica La adoro E la ringrazio davvero tantissimo Per questa dedica E il disegnino Beh No in realtà è Beh No in realtà è Ah perché Le ha fatto Cioè Delle corna D'ariete Quindi è una pecora Con serie Crisi di identità Ecco E poi Da ploppy Ho acquistato Questi sono Sono pensierini Che mi ha dato Maria Nel pacco Ho acquistato Questa qui E ploppy Mi piace tantissimo Come Come è evoluto Il suo stile Insomma Adesso è uno stile Molto molto personale Ed è veramente Bellissimo Tra l'altro Mi piace pensare Che questa dollina Mi somigli un po' Ma Angela Ho detto che non è vero Tantanto triste Perché è bellissima Comunque va bene Sarà per i capelli castani I occhi castani Dai un po' Mi somiglia E dai Dite di sì Perché voi Mi volete bene Comunque è molto molto bella Poi appunto Ci ha regalato questo E poi ragazzi Momento epico Momento epico Grazie a ploppy Ho il mio primo squishy Oh mio dio Erika Kawaii Aveva ragione Perché proprio ultimamente In un video Ha detto Ragazzi se voi Non avete uno squishy Non potete capire Quello di cui parlo Nei video E effettivamente Sì A parte che questo Già al tatto così C'è una cosa Celestiale È bellissimo E poi Oh mio dio No vabbè È stupendo È stupendo È troppo stupendo Cioè Solo che purtroppo Non devo stressarlo troppo Perché ho notato Che in alcune parti Già Si sta rovinando Si sta rovinando Ma non ce la faccio È più forte di me Io devo Devo Squisharlo Ecco per esempio E poi è abbastanza Slow rising Quindi Mi piace tantissimo Cioè ditemi Se non è uno Dei squishy Più belli Che abbiate mai visto Perché non è solo uno squishy È anche uno squishy Bellissimo E ci piace Ci piace tantissimo E bene ragazzi Io spero davvero Di non aver dimenticato Nessuna Altrimenti Mi ammazzo Questi sono tutti Gli acquisti Regalini Che ho fatto Al Cartoon Mix Vi ripeto Avrei voluto farne Tante altre Però Vabbè raga Questa è la vita Miglio vieni Fatemi sapere Cosa ne pensate Quali sono i vostri preferiti Se conoscevate già Alcune artiste Che ho citato Se le avete conosciute Grazie a questo video Ehm No Così sembra Che stai scorreggiando Verso il degotto Yo Ecco Ehm Oh mio dio È bellissimo E niente Ci vediamo Al prossimo video Ragazze Ciao